Ma mi lasci dire Giletti, che non è merito o colpa mia, qui siamo in presenza di un Karakiri, di un autogol devastante, di un signore che si chiama Matteo, ma di cognome fa Salvini, perché ha fatto una cosa Salvini, che era impensabile, impossibile, ha chiesto pieni poteri, voleva pieni poteri per far che? Per uscire dall'euro? A quel punto l'abbiamo dovuto fermare per il bene del paese.